Tre anni eppure sembra ieri quando nel mondo piombò come un macigno la notizia ufficiale della prima morte in Cina di un uomo di 61 anni a causa di un nuovo virus dal nome incomprensibile ma poi passato tristamente alla storia come Covid-19. Tanti punti ancora oscuri sulla nascita e sulla diffusione di questo virus appartenente alla famiglia della SARS in grado di devastare i polmoni e condurre alla morte in pochi giorni. Troppe le responsabilità da cui da tre anni fugge il governo cinese nascondendo ancora oggi dietro una cortina di ferro i dettagli di quel gennaio 2020, quei 13 giorni dal 7 gennaio al 20 in cui le autorità cinesi e in particolare Xi Jinping sapevano dell'esistenza del virus ma hanno taciuto. Solo il 20 gennaio 2020 le autorità avvisano il resto del pianeta della quarantina di casi scoperti attorno a Wuhan nell'area ormai tristemente nota come il mercato del pesce ma ormai è troppo tardi e il resto è storia. Storia dalla quale la Cina sembra aver imparato poco a giudicare dal nuovo velo di indignata segretezza che hanno calato sull'effettiva diffusione del contagio nel paese in queste ultime settimane dopo essere passati da lockdown assoluti a inspiegabili aperture totali. In assenza di dati ci si affida ai social o alle immagini satellitari riportate dal Washington Post per niente rassicuranti che mostrano una popolazione sfinita, parcheggi degli ospedali pieni, lunghe code di auto e carri funebri e un aumento abnorme del lavoro dei centri crematori delle sei megalopoli del paese e il timore oggi è che con questi numeri di contagi e le frontiere completamente aperte senza alcun controllo la Cina diffonda nuove micidiali varianti. Al momento il rischio non c'è, l'occidente ha imparato a mapparle e a tracciarle ma l'attenzione resta elevatissima, troppo alta, la posta in gioco soprattutto con una guerra in atto alle porte d'Europa.